Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... Imprevisto sul palco per la marrone che nell'ultimo periodo sta optando per look sempre più aggressivi e provocanti. Incidente sexy in una delle sue ultime esibizioni live. In un video diventato virale sui social network, l'artista ha mostrato involontariamente gli slip al pubblico a causa di un vestito troppo corto. Nonostante questo, la 39enne ha continuato a cantare con grande naturalezza. Una svolta hot che qualcuno ha bocciato, sta diventando troppo volgare, ha scritto un fan. A cosa serve far vedere le parti intime, ha scritto un altro utente. In un'intervista di qualche tempo fa, è ma ha puntato il dito contro bigotti e moralisti. Secondo me stiamo regredendo, adesso criminalizzano Elodie o me per una culotto perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. Cosa ne pensate al riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Grazie.